È tornato da pochi giorni nelle aule della sua facoltà Pierpaolo Falco, ricercatore e professore in oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università Politecnica delle Marche. Dopo la missione in Antartide a bordo della nave di ricerca italiana Laura Bassi, una campagna di 60 giorni che ha coinvolto un team di 39 ricercatori italiani, il professor Falco ha coordinato uno dei tre progetti a bordo che lo ha visto impegnato nell'analisi delle masse d'acqua del mare di Ross. Negli ultimi anni stiamo cercando di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sul mare di Ross, una zona che è molto importante perché qui ci sono dei processi che in qualche modo poi hanno effetto sulla circolazione generale degli oceani che a sua volta poi hanno effetto sulla stabilità del clima. Un'area di studio, quella del mare di Ross, dove dalla fine degli anni Ottanta l'Italia è impegnata con attività di ricerca e proprio qui, a causa del cambiamento climatico, si sta verificando la riduzione in volume ed estensione del ghiaccio marino. Negli ultimi tre anni l'estensione del ghiaccio marino intorno all'Antartide nel periodo estivo ha raggiunto il suo minimo, il che significa che praticamente quasi tutto il ghiaccio che si forma in inverno e in estate si fonde. Il ghiaccio continentale in Antartide sta diminuendo con una media di 120-130 gigatonnellate all'anno. Se non c'è il ghiaccio marino che contrasta lo scioglimento e lo scorrimento verso il mare del ghiaccio terrestre, tutto questo ghiaccio di fusione continentale può avere effetto sull'innalzamento del mare. Tanti dati raccolti durante la spedizione dove la strumentazione installata effettua misurazioni tutto l'anno, dati che andranno analizzati e comparati attentamente prima della prossima partenza. Ripartiremo l'anno prossimo sicuramente, avremo un altro progetto molto importante a portare avanti. Penso che per me sarà l'ultimo perché bisogna poi lasciare un po' di spazio anche ai ragazzi.